Nicola Dandello si torna in campo per la quinta di Superlega, tante partite in pochi giorni, oggi si gioca appunto questa sfida interessante e anche molto difficile contro Roena, come ci arriva Milano? Ci arriviamo sicuramente in fiducia dopo una bella partita a Modena, sappiamo che non è facile giocare ogni tre giorni, a maggior ragione con una squadra come Ravenna, che gioca molto bene a Palavoro. Dopo la partita contro Modena il coach Roberto Piazza aveva elogiato la capacità della squadra di passare da una situazione difficile come quella sconfitta di Vibo ad una situazione positiva come quella di Modena, quindi c'è stata una risposta soprattutto da un punto di vista mentale, emotivo, caratteriale, oltre ovviamente ad una buona prestazione da un punto di vista tecnico. E questo è il percorso che accompagna l'Alliance Powerball Milano in questa stagione? Sì sì, sicuramente l'attenzione va messa soprattutto sull'aspetto mentale perché se manca quello poi tutto il resto è difficile farlo al massimo, quindi quello ci deve essere sempre, poi ci saranno le giornate dove giocheremo meglio, quelle un po' meno, però l'aspetto mentale deve essere sempre al 100%, non è facile perché giochiamo ogni tre giorni, però è una cosa che vogliamo fare. L'avversario di questa sera è una squadra molto giovane, una delle sorprese di questo inizio di campionato, ha strappato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, nelle prime partite ha messo in difficoltà Civitanova, ha giocato una partita molto tirata con Modena, ha vinto contro Cisterna, insomma Ravenna è un avversario da prendere con le pinze. Hai detto tutto tu, è una squadra che ha iniziato molto bene, che da un po' di anni è formata da giocatori emergenti e questo gli dà una spinta in più nella motivazione, giocano molto bene a pallavolo, sono molto organizzati e infatti i risultati parlano per loro. Nell'inizio di questo campionato Milano ha dimostrato di avere un carattere, ne abbiamo parlato prima ma soprattutto ha avuto la capacità di sfruttare chi è entrato dalla panchina, quelli che solitamente diciamo non sono i titolari che almeno partono sulla carta. La profondità di una rosa o comunque la possibilità di poter avere giocatori che quando entrano possono cambiare un po' l'inerzia del match, quanto è importante non solo per Milano ma in generale per ogni squadra di pallavolo? Ma è molto importante quando ci sono queste partite ravvicinate e per forza di cose la squadra non ha il tempo di recuperare al 100%, quindi ogni aiuto della panchina è tanta roba insomma, se arriva dà una bella mano a tutti quanti.